Musica Paola Cianci, una vittoria al Cardiopalma? Sì, è stata una vittoria sofferta, ma una vittoria meritata, una vittoria che arriva dopo un percorso che abbiamo iniziato dalle primarie. Il centro-sinistra in questi anni ha lavorato per questo cambio generazionale. Ci siamo arrivati con degli step, abbiamo cominciato con le primarie, poi abbiamo fatto appassionare tanti giovani a questo progetto politico. Abbiamo messo su un programma elettorale fatto di tante idee, una sintesi di idee di tutti coloro che hanno con noi condiviso questo percorso. Poi siamo arrivati all'esito delle votazioni e l'elettorato ha legittimato questo cambio generazionale, dando la possibilità a tanti giovani di raggiungere il primato nelle liste. Ma questo risultato è frutto anche degli spazi e dell'opportunità che il centro-sinistra in questi anni ha lasciato ai giovani, l'opportunità di crescere e di maturare un'esperienza politica e amministrativa di alto livello. La sintesi di questo percorso si chiama Francesco Menna, un uomo politico di 38 anni, un professionista, una persona di grande spessore, ma soprattutto un ragazzo che è cresciuto facendo la politica tra la gente e per la gente. E le persone che oggi si accompagnano a lui hanno questo modo di intendere la politica. Grazie. Grazie a tutti.